Sulla questione di Mauro mi ha risposto tantissimo, nella lettura previa a quello che ha stato la determinazione del numero di giornate, o nella lettura che faccio io in generale del caso italiano non prevedeva altro diverso di quello, perché questo si porta fino a Roma e per questo era sicuro, quasi sicuro di quello che succedeva, adesso tocca a noi credo io di lavorarci per ridurre quello che secondo me è meritato.